Se la mente viene placata La via della conoscenza attraverso Attilio e Franca vocedellacuiete.vaianochiocciola.gmail.com Una voce Per rispondere alla tua inquietudine ti diciamo che a tutt'oggi tu continui ad alimentarti nel quotidiano di tutto quello che la via della conoscenza sta mettendo in crisi Non sei capace di apprezzare il semplice vivere perché parli immediatamente di incominciare a vivere in un modo oppure in un altro imponendo alla vita il tuo concetto di vita Se la mente viene placata l'uomo può incominciare a scoprire che il modo in cui concepisce la vita è punente se stesso perché quando la esalta aumentano le pretese ed allora lui si distribuisce patina sugli occhi Tu non stai inseguendo ciò che la vita ti presenta giorno dopo giorno ma ciò che vorresti già aver superato per essere in quel luogo neutro nel quale ciò che passa giorno dopo giorno neppure ti sfiora Quando una persona ti pesta i piedi come non vorresti diventi ottusa non rispetto all'altro ma rispetto a te stessa In quel momento crei un'immagine di te che va oltre quella situazione e vorresti già abbandonarti al divino anche se in te persiste la questione che ti rende ottusa Ma è l'altro da te l'umano concreto non la tua immagine di divino È l'altro che ti attraversa la strada quello con cui c'è un qualche rapporto che si manifesta in modo per te incomprensibile e inaccettabile Oppure l'altro è anche colui con cui non hai un rapporto stretto L'aggettivo inaccettabile ti fa pensare ad una tua rigidità Questo nell'ambito di rapporti con l'altro da te che si comporta in una maniera che non capisci perché esce dai parametri di rispetto e di buona educazione che tu ritieni doverosi e necessari In quel momento dentro di te si scatena una reazione che vista con gli occhi del dopo è sempre paradossale e ti fa pronunciare sentenze sull'altro che nonostante i tuoi tentativi di attenuarle invadono il campo